Centro sportivo di Formello, penultimo allenamento prima della sfida del Vigorito di Benevento per la formazione di mister Inzaghi. Il gruppo è tornato a lavoro nella mattinata di oggi, alle ore 12, tutti in campo per preparare una gara comunque delicata e importante. Evidentemente il secondo tempo della sfida del Dallara ha evidenziato anche la necessità per il tecnico biancoceleste di inserire in formazione forze fresche. Le prove tattiche andate in scena nella mattinata di oggi consegnano indicazioni importanti e possibilità anche di turnover in vista di questo impegno contro l'ultima squadra della classifica della Serie A. E allora, probabile l'inserimento di Lukaku dal primo minuto al posto di Senad Lulic. Luis Felipe potrebbe prendere il posto di Radu, oggi il romeno ha svolto lavoro differenziato insieme a Leiva e Maurizio a corso a bordo campo. Sulla destra dovrebbe essere confermato Marusic, ma c'è Patrick che lo insidia così come Nani insidia Luis Alberto. Al posto del brasiliano, appunto Leiva, che ha svolto il differenziato con Stefano Radu, potrebbe esserci Murgia in cabina di regia. Insomma, ancora tante incognite, tanti calciatori da valutare, situazioni tattiche da analizzare per mister Inzaghi nella rifinitura che si terrà domani alle 12 qui al centro sportivo di Formella.